Oggi ti porto nel mio mondo, fatto di attrezzi, tessere e materiali. La scelta dei materiali è la parte più divertente per me, è il momento in cui posso esprimere tutta la mia creatività. Questi per esempio sono gli smalti veneziani, utilizzati tipicamente per il mosaico. Questa che vedete è solo una piccolissima parte dei colori disponibili per il mosaico. E poi ci sono le mie tre martelline, i miei gioielli, che utilizzo per tagliare tutti i materiali. Ognuna di esse la utilizzo per un motivo specifico, questa in particolare la uso per tagliare gli smalti. È la mia preferita perché taglia veramente molto molto bene. Poi arrivano i materiali per i miei metamosaci che realizzo io personalmente. Il MetaMosaic World è in costruzione. Non dimenticarti di iscriverti per rimanere sempre aggiornato.